Ah, 25 anni di esperienza. Benissimo. Attenzione, non è un posto qualunque le belle arti. Per qualunque problema si rivolga a Hubert è il custode. In questo momento c'è una mostra di cose che ammuffiscono. La muffa che varia nel tempo e nello spazio, decomponendo si crea delle forme. Aspetti che il pavimento si pulisca da solo? Mi stava spiando? No, non ho visto niente. Qui è molto semplice. Bisogna appendere una vulva o una cosa? Qual è il concetto? Glielo spieghi tu? Belle queste conchiglie. Sembra che tu abbia dieci anni di meno. Dovresti fare la modella per il nudo. A lei piace il suo lavoro, Maria. Di solito fare le pulizie non è un lavoro che si sceglie. Vediamo tutto, ma non diciamo mai niente. Questo mi piace. Mi sento invisibile, ecco. Non vederla sarebbe un peccato. Sei molto bella. È oggi pomeriggio. È qui. È adesso. Non è domani. Non è ieri. È adesso. E devi dare l'esame. Anche se hai paura. Perché se no dopo. È troppo tardi. Dopo... È finita. Mari. Noi. Non c'è tutto.